Fortunatamente non sarebbero gravi le condizioni della donna che nella serata di ieri è stata vittima di un drammatico incidente stradale che solo per fortuna non ha portato a gravi conseguenze. L'ennesimo episodio a distanza di 24 ore che si è verificato sull'autostrada A2 del Mediterraneo e che ha visto coinvolto un uomo di Caggiano che purtroppo ha perso la vita. Nella serata di ieri intorno alle ore 20 un altro drammatico incidente ha visto coinvolto una vettura su cui viaggiava una donna e che si è verificato sempre all'altezza di Atena Lucana a poca distanza dal punto in cui si è verificato l'altro incidente. Secondo quanto si apprende pare che la donna alla guida dell'auto abbia perso il controllo del veicolo a causa di un animale che ha improvvisamente attraversato l'arteria autostradale. L'auto è dunque sbandata andando a capovolgersi. Sulla strada in quel momento stava arrivando anche un mezzo pesante che non avendo visto l'auto capovolta a causa anche della posizione in cui si è fermata la stessa vettura l'ha urtata. L'auto con la donna all'interno è andata quindi a scontrarsi su un'altra vettura che stava sopraggiungendo. La donna, viva per miracolo, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 ed è stata trasportata presso il vicino ospedale di Polla. Sul posto immediato l'intervento degli agenti della polizia stradale di Sala Consilina guidati dall'ispettore capo Nicola Molinari per le verifiche del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Immediato anche l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e del personale ANAS per regolare il traffico e consentire la rimozione dei veicoli incidentati.